Benvenuti a tutti quanti in un nuovissimo video commentary riguardante il mondo di Battlefield 5 in cui oggi darò le mie opinioni personali sul mondo dei car armati. Questi fantomatici mezzi pesanti ritornano anche in questo quinto capitolo e sono veramente belli da utilizzare, soprattutto magnifici da vedere in azione. A mio livello personale nel mondo di Battlefield ho utilizzato poche volte i mezzi corazzati. Su Battlefield 3 e Battlefield 4 non ho avuto quell'ottimo feeling che mi ha fatto innamorare all'utilizzo di questi veicoli. La mia passione per questi portatori di morte è nata con Battlefield 1, con la magnifica camionetta dell'artiglieria mobile che mi permetteva di shottare anche i bombardieri a lunga distanza. Con il capitolo numero 1 DICE riuscì a creare un connubio perfetto del gameplay con i car armati contro la fanteria tant'è che me ne innamorai. Ma non solo dell'artiglieria mobile, ma anche del fantastico Saint Chamond francese e della landship armata di Tank Gewehr. Se eri bravo a utilizzare questi mezzi, riuscivi tranquillamente a devastare un'intera squadra avversaria. La gente solitamente ti dà del nabbo come anche quelli che sono bravi a utilizzare gli aeroplani. Ma alla fine non è colpa del giocatore se riesci magari a padroneggiare una meccanica del gioco e tu, avversario, magari no. In Battlefield V il mondo dei car armati è stato completamente stravolto con l'aggiunta di elementi simulativi nonché nuovi per la serie. Primo tra tutti il fattore che ora la torretta non si muove in modo simultaneo con il nostro mouse o la nostra levetta analogica, ma ha un tempo di percorrenza. Ovvero, quando noi spostiamo la nostra visuale, vediamo chiaramente un pallino che si posiziona immediatamente nel punto esatto in cui stiamo osservando. Ma noteremo che la torretta del car armato sta ancora ferma e incomincia a spostarsi. La velocità di transizione della torretta dal punto zero al punto in cui stiamo guardando effettivamente dipende dal livello di pesantezza del car armato. Se utilizziamo un car armato leggero questo sarà molto più veloce a girare la propria canna, mentre i car armati più pesanti, che solitamente sono armati fino ai denti con i cannoni più potenti, impiegheranno molto più tempo ad allinearsi con la visuale. Questo ritardo indotto appunto dalla tipologia di car armato che stiamo utilizzando bilancia il gameplay in un modo perfetto. Utilizziamo un valentine inglese, molto bene, avremo molta più velocità di movimento, nonché di allineamento della nostra arma principale, ma avremo meno potenza di fuoco. Anche se attualmente in Battlefield V un car armato leggero valentine riesce a shottare un tiger tedesco, ma questa è un'altra storia. Stiamo ancora aspettando che DICE bilanci effettivamente il livello dei car armati all'interno del gioco. Mentre se utilizzeremo un car armato pesante avremo, prima di tutto, molta più lentezza negli spostamenti del veicolo, lentezza nel puntamento dell'arma principale, ma un'immensa potenza di fuoco soprattutto a livello di danno ad area. Anche se questa cosa, ovvero lo splash damage dei proiettili, è un'altra cosa che DICE deve fixare nel tempo, perché attualmente succede più di una volta che i colpi di un tiger, invece di shottare una persona presa letteralmente a fianco del proprio corpo, riceve un hit di 75, una cosa che in Battlefield 1 non sarebbe mai successa. Come secondo grandissimo cambiamento all'interno di questo capitolo del mondo dei car armati, è la quantità di munizioni limitata dell'arma principale e della mitragliatrice coassiale. Se in tutti gli altri capitoli di Battlefield eravamo abituati ad avere un tot di munizioni iniziali che si ricaricavano in automatico in modo illimitato nel tempo, in questo quinto capitolo non esiste. Una volta che per esempio finiremo i 500 colpi della nostra mitragliatrice coassiale, che solitamente è posta a fianco o sotto la canna principale, e magari i 15 colpi del cannone da 80 mm, invece di avere una ricarica infinita che dopo un tot di secondi scatterà in automatico e ci ricaricherà di quelli che sono i nostri colpi, dovremo dirigerci verso un punto di ristoro dei mezzi. Queste stazioni di rifornimento sono solitamente posizionate all'interno delle bandiere, e quasi sempre ne potremo trovare uno all'interno del nostro spawn iniziale. Una volta raggiunti sul posto potremo riparare in modo completo il nostro car armato, stando tranquillamente seduti al suo interno, e ricaricare tutte le nostre armi. Questa meccanica aggiunge un altro eccellente bilanciamento al gameplay per i car armati contro la fanteria. Spingendo questi possenti mezzi a rifornirsi in stazioni apposite, solitamente lontane, in altre bandiere, i giocatori possono respirare più a lungo. In Battlefield 1, come anche negli altri capitoli della serie, invece la presenza dei car armati era molto pressante e certe volte snervante, proprio perché i carristi potevano tranquillamente nascondersi dietro una collina, aspettare qualche secondo, ricaricare tutti i colpi e tornare all'attacco. Così facendo invece i giocatori sono obbligati ad abbandonare magari l'attacco verso una bandiera conquistata dal nemico per ripararsi e rifornirsi. Un altro cambiamento alle meccaniche dei car armati è la riparazione automatica che è possibile fare all'interno del mezzo. Questa meccanica è stata introdotta nel mondo di Battlefield 1, che permetteva ai carristi di autoriparare il proprio mezzo standosene tranquillamente nascosti. Bilanciarono questa aggiunta in un modo molto semplice. Durante la riparazione i carristi non potevano né muoversi né tanto meno sparare. Nei capitoli precedenti invece per riparare il proprio mezzo i carristi dovevano stare fermi ed evitare di beccare dei colpi da parte degli avversari. Passato un piccolo lasso di tempo potevamo notare che la vita del car armato si rigenerava da sola, senza nessuna azione da parte del giocatore. Con Battlefield 1 invece i giocatori dovevano tenere premuto un tasto apposito per iniziare a riparare il proprio carro dall'interno. Questa cosa in Battlefield 5 esiste ancora, ma è stata ridotta per evitare che i carristi possano riparare completamente il proprio mezzo standosene all'interno. Se riceviamo un danno grave come il blocco della torretta, o un danneggiamento al motore, o un cingolo disattivato, non potremo ripararlo completamente. Anche perché la vita del car armato riceverà un danno critico che impedirà al carrista di aumentare la vita massima con l'autoriparazione. Per completare il ciclo di riparazione di un car armato, il carrista è obbligato ad uscire dal mezzo, per poi premere il tasto che si utilizza solitamente per tirare fuori la cassetta degli attrezzi, che unicamente all'interno delle partite ci permette di costruire le fortificazioni, e quest'ultima diventerà automaticamente una torcia per riparazioni quando ci avvicineremo al mezzo. Facendo questa azione, il carrista, standosene all'esterno del car armato, potrà ripararlo completamente, rischiando però la propria incolumità per colpa dei cecchini avversari, della fanteria di passaggio o di altri mezzi nemici. Oltre al fattore che se il carrista muore una volta che è all'esterno del car armato, i nemici possono rubargli il mezzo, dunque portando un grave danno alla squadra impedendogli di utilizzare un altro car armato durante la partita. Ovviamente finché il nemico è ancora in vita mentre sta utilizzando il carro alleato. Se non si vuole rischiare troppo, l'utilizzo dei punti di rifornimento e ristoro dei mezzi è la scelta migliore, mentre se magari molti di voi non lo sapevano, la classe supporto può riparare i mezzi utilizzando la stessa identica meccanica dei carristi. Dunque se abbiamo abbastanza fortuna, magari un supporto alleato vede che il nostro car armato è danneggiato, ci si piazza di dietro, tira fuori la cassetta degli attrezzi e voilà. Ripara per noi il mezzo e noi possiamo continuare a combattere senza problemi. Come ultima grande meccanica aggiunta all'interno del mondo dei mezzi corazzati, Battlefield V ovviamente è l'albero dei perc e delle abilità per questi ultimi. Abbiamo una vasta selezione di potenziamenti, quale migliorie alla velocità dello spostamento del cannone, la velocità dell'autocaricatore, dei potenziamenti per quanto riguarda la corazza all'altezza dei punti sensibili come la torretta principale e anche potenziamenti a livello di proiettili sostitutivi in grado di essere utilizzati in specifiche azioni e momenti per fare il massimale dei danni. Insomma ragazzi, il mondo dei mezzi pesanti su Battlefield V è stato completamente stravolto e rivoluzionato. Tutte queste migliorie e cambiamenti a me a livello personale piacciono tantissimo. Mi hanno fatto innamorare ancora di più dei mezzi corazzati, tant'è che continuo a utilizzarli appena ne ho l'occasione. Queste modifiche a mio avviso sono ottime per far sì che i giocatori comincino a pensare prima di agire. In questo quinto capitolo non si è più immortali, non si hanno più munizioni infinite e per ripararci dobbiamo fare azioni specifiche che possono sia mettere a repentaglio la nostra vita che rallentare la nostra avanzata verso le bandiere avversarie. Penso che la parola chiave in Battlefield V sia pianificare prima di agire. Se sappiamo utilizzare appieno un mezzo corazzato, lo sappiamo gestire e muovere sul campo di battaglia, la strage è assicurata, nonché potremo fornire un fantastico vantaggio nella conquista delle bandiere in supporto alla fanteria alleata. Dunque ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate anche voi del mondo dei corazzati all'interno di Battlefield V. Io come sempre vi invito a lasciare un mi piace unicamente solo se il video vi è piaciuto realmente o di lasciare un non mi piace se quest'ultimo non dovesse esservi piaciuto. Vi invito a condividere il video sui vostri social network per aiutare il canale a crescere, di iscrivervi al canale per continuare a seguire nei futuri video di Battlefield V, di attivare le notifiche del canale cliccando sulla campanella apposita per rimanere aggiornati su tutti i futuri caricamenti e di iscrivervi al canale di Twitch per non perdervi le future live in ordine settimanale anche su quella piattaforma. Detto questo ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video, un subito d'abbraccio, il vostro Master Doom 93. Oh yes bitches, oh yes.